Un passo avanti nella trattativa Brioni, ieri si sono svolte le votazioni dei lavoratori di tutti gli stabilimenti abruzzesi per l'approvazione dell'accordo sulla vertenza preparato dalle RSU. Al termine della giornata il SIA ha avuto la meglio con 517 voti da parte dello stabilimento di Penne, 203 per quello di Montebello e 116 in quello di Civitella. 93 in 8 tali, l'89,99% ha espresso il proprio consenso ed ora il procedimento si dividerà in due tappe. Fino al 30 aprile i 139 lavoratori full time in esubero avranno tempo di decidere sulla mobilità volontaria e cioè se andare via con un incentivo da parte dell'azienda che prevede una somma di 32 mila euro per i lavoratori con contratti da 40 ore, 30 mila euro per le 36 ore e 16 mila per le 20. Dal mese di maggio invece si lavorerà sulla rimodulazione dell'orario facendo la conta dei lavoratori rimasti sui 139 in mobilità volontaria. Accolta dalla società anche la richiesta dell'unatantum ovvero di una somma forfettaria destinata ai lavoratori che a causa della rimodulazione dell'orario percepiranno uno stipendio inferiore a partire dal 1 giugno. Previsti 2.500 euro per le 40 ore, 1.000 per le 36 e 1.250 per le 20 ore con una validità fino al 31 dicembre 2018 ovvero per tutta la durata del piano industriale. L'azienda ha comunicato inoltre che se le politiche commerciali introdotte non ripristineranno le condizioni dei lavoratori all'origine cioè riportare gli orari di lavoro a quelli iniziali l'unatantum sarà prorogata anche dopo. Nel piano industriale è stato annunciato un incremento di produttività stimato da 31.000 a 35.000 capi e concentrato sul formale, la maglieria e il basico, i punti cardine del brand Brioni che negli ultimi anni aveva invece subito l'introduzione del comparto casual che invece non aveva dato i risultati sperati. Secondo i sindacati si tratta di cifre poco ambiziose poiché così com'è l'organico potrebbe produrre dalle 45.000 alle 48.000 unità di capi ma è probabile che si tratti di proiezioni caute per non disattendere accordi aspettative in un momento di difficoltà e incertezza per i lavoratori.